Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Ghostway Tokyo me l'ho pregato, mi ha fatto vedere un altro idolo e sono contento quindi andiamo avanti come al solito con i secondari a cercare questo yokai vedere che è andato qui vicino così vediamo un po' cosa fare io volevo vedere se c'è da cucciare qualcosa ma ho l'impressione che abbiamo cucciato niente perché c'è il solito figuraccia andiamo a vedere dove l'ho messo di qua andiamo pure, prendi grazie, puoi di cucciare, dico sempre cuccia ok, di qua di qua ecco il kamaitachi, sta facendo caso a noi muoviti, inseguilo finchè non si ferma fa caso a noi e mi è venuto proprio addosso cazzo ma questo è ubriaco, non è un kamaitachi eccolo qua e l'ho perso eccolo lì sopra eh, come cazzo l'ho no l'ho perso, sono sincero l'ho perso perché quello è il senku, il gokun, come cazzo si chiamola mi è passato, non lo so eccolo ok, alla fine va lì io metterei ok ma quanto cazzo corre è tornato anche indietro ma quanto cazzo corre, mi ha fatto fare il giro dell'america si è fermato ci provo eh ok porca vacca ormai sei un patito dio no beh, non la metterei proprio così diciamo che avevo perso le speranze ecco ok, quest, per carità cane, per carità ok, adesso andiamo a fare altro perché abbiamo un santuario perché abbiamo un santuario da scoprire che, allora, questo l'abbiamo fatto questo qui perché mi ha pregando mi ha detto che era lì quindi andiamo ci ho lasciato indietro un po' di anime prade che cazzo c'è lì di così grosso è bello grosso eh allora sentita così è proprio brutta però porca vacca come cazzo, ora ci salgo lì sopra porca miseria ok, ho l'impressione che dovrò far così e poi dovrò far così e poi, e poi salve vabbè, mi fa piacere poi dovrò far così perfetto vai oh, porca vacca come cazzo è andato? muori, 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 muori ci danno a non mi sperare ma, stavo meglio prima eh cosa c'è qui? quando cazzo è uscita sta roba? ok andiamo perfetto capiamo, vabbè, questi sì mi piacciono perché posso far così e posso far così e poi faccio così una rigenerata da panico insomma niente male puoi farci porca vacca ecco, vai un attimo dove siete? le cazzo sono finiti ah, sono morti? ci sarà molto da fare per salvarli tutti eh, in effetti c'è stato un bel casino qua porca vacca l'ho vista brutta allora, stavo dicionando che io stavo guardando quel collito ma cos'è quello? e poi è, pum, morto non ci ho capito più un cazzo e io continuo a non capirci più un cazzo e quindi ho perso tutto quanto che bello eh, un bel problema eh ormai è andata e quel che è andato è andato non ci posso fare niente vabbè oh cazzo sì ma queste comparse così all'improvviso non sono più belle eh siamo proprio spazio ho provato a parare ma cazzo mi è venuto addosso eh non si viene addosso le persone ma è l'educazione oh porca troia quanto cazzo mi ha salvato eh Tanuki me l'ha salvato vabbè dai abbiamo perso un po' di cola andiamo adesso a santuare tanti saluti purtroppo sono diventati troppo forti veramente esageratamente forti eh devo stare più attento devo stare più concentrato ok andiamo e poi ho messo salvo nei 5 minuti evidentemente era 4 minuti e 50 notte sembra una rocuro cubi che adesso salve 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 non ti fa paura eh per questo cane finiscila chi si spaventa per dei graffiti che signor collo il corpo dov'è eh l'ho persa sì ma cazzo ma sono delle anguille non era da questa parte ah se te la vedi sono contento per te io non la vedo concentrati sulla rocuro cubi qui non la troverai non ho idea di dove sia questa chissà facciamo questo che è meglio concentrati sulla rocuro cubi qui non la troverai la rocuro cubi eh voi la vedete io no non ho proprio idea di dove sia andata e quindi niente qui c'è il micio vediamo se ci da qualcosa ok facciamo un po' di qua eh che vi devo dire ragazzi non non la trovo mi è sparita così scattosamente ok siamo ricchi abbiamo tanti di quella roba facciamo così 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 perfetto ah scusate non ho visto prego è stato piaciore sì grazie grazie ok parla però vediamo cos'hai utilizzabile metafora vabbè dai 100.000 li abbiamo vai e 10.000 perfect allora giro e vedo se la trovo e vi dico ok è rispondata cerchiamo di stare attenti salvo perché così almeno se succede qualcosa la riprendo da qui ed è sparita come fa a sparire così ok ah ok adesso ho capito dove è andata eh non riuscimo a capire scusate non era da questa parte ok il tubo presumo di qua ok era esattamente vedete noi siamo saliti qua ma era qua ok devo seguire questo devo seguire questi cazzo di cosi ok eccola perfetto devo solo seguire le tubature quando scusate ma non esattamente non era molto intuitibile diciamo però ce l'abbiamo fatta dai ok questa era l'altra dove c'era la signora perfetto allora questa è fatta scusate no basta avete rotto qui vai che fallo non si riesce più giocare ultimamente ok il lock non funziona questo non ci arriva e niente e niente vabbè lock funziona per piacere cerca di funzionare qualche volta ok perfetto no devo incominciare a usare la parata dai non ce la non ce la scappiamo se no vabbè andiamo avanti allora scusate ma bisogna di tempo qua vi ha fatto altre cose è l'unica mi sa che non è nascondino 3 no ce n'era un'altra prima questa andiamo da questa dai se no cosa possiamo fare qua mi piace di più andiamo ok purtroppo sto incontrando un po' di difficoltà effettivamente eccomi qua scusate allora stavamo dicevano non lo so sono parte di 6 ore scusate per le pazientate dobbiamo andare qua a fare da questo vediamo un po' come fare c'ha l'epo che gli ho dato ecco sei tu signore eh sei io su te questa volta non filartela subito eravamo molto preoccupati ma se si viene presi e il gioco finisce dai giochiamo di nuovo ho ancora il mio nascondiglio segreto vabbè nessuno mi ha mai trovato in quel posto è super bello e anche difficile da raggiungere vi do un indizio è un condominio a 7 piani con un mini market oh porca troia ora mi nascondo cercatevi oh cazzo ho capito cosa dice e non mi piace e non mi piace per un cazzo allora e l'abbiamo già fatti quel mini market mini market il cazzo perché dove cazzo è finito ah ok è partita adesso la quest dicevo 88 88 qua forca troia e semplicemente gli piace giocare a nascondino è ossessionato deve esserci un motivo proviamo a trovare quel mini market lo sappiamo già che quel mini market ce l'hanno detto in culo vero mini dice mini eh ok allora tanto io ciuccio perché comunque qui ci ci sono di cose da succiare io ciuccio vai ah cazzo ma siamo pieni fatemi vedere scusate un attimo eccomi di sbottarmi un attico perché sembrerebbe il caso di farlo dove trovo una sento clacsonare ma non vedo un cazzo ok grazie grazie allora una gettoneria dove cazzo ma è possibile che in queste strade non c'è un cazzo di niente che strano ok eh niente vado a svoltarmi un attimo e ci vediamo fra poco eccola cavoli non l'avevo assegnata eh me l'ha assegnata adesso eh devo scoprirla ancora ok perfetto così mi svuoto tanti saluti se no cazzo finiamo più qui ne ho 7000 anime va bene perfetto ottimo grazie 100 quasi 200.000 dai mancano solo 40.000 anime e abbiamo finito il gioco cioè di anime intendo ok allora cerchiamo sto cazzo di minimarket un minimarket è un posto difficile da raggiungere in un grattacielo ah in un grattacielo allora questo è un minimarket però non si fa entrare allora sto guardando in una guida in teoria dovrebbe essere 7 piani minimarket deve essere questo ok questo appunto stavo dicendo sto seguendo una guida e adesso vi dico meglio bene adesso devo trovare la porta di entrata che è questa dobbiamo entrare prendere l'ascensore allora si entra otto piani ma fuori ce ne sono solo sette spingilo e vediamo strano già questo deve essere il nascondiglio è sicuramente difficile da raggiungere deve essere stato il suo modo di parlarci di questo posto si ora rintracciamo la causa di quelle sparizioni ok quindi dobbiamo andare a cercare il ragazzino beh per adesso il percorso è abbastanza obbligato andiamo qua ok e qui dove si starà che giochiamo sul sette provate a trovarmi ecco e da qui dobbiamo andare esattamente oh scusate ho scoperto la causa delle sparizioni e non è proprio ciò che ci aspettavamo faremo meglio a trovarlo di nuovo allora da qua dobbiamo andare di qua 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 poi teniamo qua dobbiamo tenere la destra di qua perfetto perfetto qua poi dobbiamo salire qui 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 poi andare qui perfetto poi poi salire qua andare qui andare qui mi sono mi sono bloccato e non so come fare ok ma vaffanculo ok calma poi da qui dobbiamo andare molto con calma qua mamma mia che brutto così perfetto una volta qua dovrebbe essere lì però un attimo devo andare qua vediamo se mi fa andare ok andiamo di qua uguale e poi di qua facciamo così ok poi allora parliamo con lui ce l'avete fatta di nuovo troppo facile la prossima volta vincerò ehi ragazzino non ci stiamo più divertendo ok adesso dobbiamo scendere guardare tutti quelli che ci sono in zona vediamo un po' che bambino strano dov'è è sempre tutto io dove sono dovrebbe essere da queste parti parliamo con lui dove mi trovo ma non riesco a trovare quel bambino non va bene neanche qui forse di là ok adesso dobbiamo andare di qua dunque aspettate ero qua allora in pratica dobbiamo andare dove l'avevamo trovato inizialmente che adesso vatti a ritrovare dov'è una bella impresa dovrebbe essere circa qua si vediamo un po' vediamo un po' è un bel cazzo di casino porca miseria allora ok qui siamo avvenuti quindi io sono andato di qua perché devo fare il mente lo calo scusate ma è un fottuto cazzo di casino perfetto e dobbiamo tenere la destra di qua esatto ok scusate ma devo tornare indietro per se non ci capire un cazzo poi si va di qua e dovrebbe essere qui vicino esatto esatto forse possiamo entrare dall'alto non so come fare per devo planare certo che non mi plana allora calma esatto allora speriamo che non mi si bughi di nuovo vediamo se mi fa qua almeno almeno qua speriamo che mi si bughi porca vacca si è steso di nuovo guardate che lo fa apposta niente non riesco a salire ok poi da qua ci andiamo qua perfetto e da qua andiamo qua bene bene ok possiamo andare qua qua ascolta Yosuke basta con i giochi devi far tornare tutti quanti a casa intesi altrimenti non giocherai mai più al nascondino perché tutti vogliono così tanto ritornare a casa se torno a casa dovrò rimanere nascosto anche lì quindi non vuoi andare a casa no perché se mamma e papà mi vedono mi puniranno andrà tutto bene ti manderemo in un altro posto un posto più sicuro e felice di casa tua grazie per aver giocato con me ciao eh ok scusate bene abbiamo finito questo ce l'abbiamo fatta e quindi tutti liberi finalmente posso andare eh ciao grazie non voglio mai più giocare a nascondini tutto qua e il ragazzino sarà fuori vediamo pensi che stia bene adesso lo spero anch'io si sarebbe meritato una vita migliore bravi bambini con pessimi genitori l'ho visto fin troppo spesso oh cosa c'è qui guardate voi che carino abbiamo trovato uno di quei tatuari di graffiti che beh sono contento ma che bella cosa e adesso cosa facciamo ci teletrasportiamo qua un attico consegniamo e ci salutiamo beh dai sono contento è andata bene infatti bug che vabbè purtroppo è andata così 11.000 vabbè mi fa piacere va a queste non le avevamo prese ok vediamo se abbiamo qualcosa no non avevo cazzo perfetto ragazzi io direi che ci possiamo anche fermare qui per questo video è tutto vi invito come al solito lasciare un like un commento se vi piacerebbe farmi sapete cosa ne pensate per il momento vi do assoluto asciva ciao ciao